Noi abbiamo messo vent'anni a capire che siamo fatti l'uno per l'altro e non voglio stare più lontano da te. Sono diventato così vecchio e non mi riconosci? Lapo, secondo te mio padre avrebbe trasferito al tuo l'intera proprietà di questo casale? Al tuo papà piaceva giocare a povera. Che punto c'è in mano? Uno schifo, coppia. Hai vinto, non c'è nemmeno vero. Ti hanno già sfrattato dal casale? Lapo lo vuole vendere al miglior offerente. Perché non chiedi il trasferimento in Sicilia? Benvenuto, ti chiamo stasera. Sono venuta a controllare le med di mio marito. Da Samantha. Vi siete baciati con cos'è? Codarsi. Si sono baciati. Tu sei la mia musa. A te questo lapo ti carbo o no? Nel cuore di Fosca ci sei solo te. Ma che gli fai i tuoi giovani? Per fotografarti dovrò rubarti l'anima. Magari potrei essere io a rubarla a te. Non sentite questo odore acre intorno al cadavere? Un po' come dei profumi. Quando un sentore ne nasconde un altro e un altro ancora. Una lacerazione superficiale compatibile con uno strappo violento. Io credo che Monila sia stata stregata dagli occhi della principessa. Per il momento dispongo di un fermo nei suoi confronti. Io non sono l'assassino. No, io non mi calmo. Capito io. Io non mi calmo. Signor Forcani. Tutti feli. Io conoscevo la vittima. Mi state accusando di qualche cosa? Secondo me è un tussello molto giusto per lei. C'è un filo del pane e la pelle. Sono incinta a Fosca. E chi è il padre del bambino? Aspetta a vendere il casale. Non buttarmi fuori così. Detto sei felice o non cosimo. Fosca Innocenti. Seconda stagione. Prima assoluta da venerdì in prima serata a Canale 5. Quai?